Gran premio della giuria al Festival di Cannes. Mi scusi, è venuto qualcuno che ha perso una borsa. Perché? Ho trovato dell'oro. Candidato ai Golden Globe come miglior film internazionale. Dove hai preso quella borsa con la cinta rotta? Dimmi chiaramente che sono un ladro. La prova è che tutta la vita ha sempre mentito a tutti. Lucky Red è orgogliosa di presentare il nuovo capolavoro di Ashgar Faradhi. Chi è questo per il quale ti stai giocando la reputazione di tutta la famiglia? Quell'uomo è tutta la mia vita. Un eroe dal 3 gennaio al cinema.